Il marchio di fabbrica non era semplice, un gol a freddo con Malomo, però poi Ciciretti ha ripristinato gli equilibri. Sì, abbiamo preso un gol dopo pochissimi minuti su una palla inattiva, poi siamo stati bravi comunque a reagire perché non era semplice andare sotto subito in casa e comunque a volte ti può spezzare le gambe siamo stati bravi a trovare il pareggio e subito dopo a fare il 2-1 e poi comunque l'abbiamo gestita fino alla fine. Sì, ho chiamato, non so chi me l'ha data, se Pippo Nardi, comunque gli ho chiamato, gli ho detto piano mentre me l'ha data perché l'intenzione mia era di calciare di prima in quella maniera, poi la palla è entrata e meglio così. I capelli rosa? I capelli rosa gli piacevano a mio figlio e l'ho fatti, tanto sapete che non so tanto normale. Ma sì, ma noi la consapevolezza ce l'avevamo anche prima, secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante ci siamo persi un pochino perché comunque abbiamo speso tanto, davanti avevamo la Juve Stabia che provavamo a fare una rincorsa ma ogni qualvolta noi vincevamo anche loro vincevano quindi non era semplice, credo che oggi comunque abbiamo acquisito ancora di più questa consapevolezza e poi comunque il pubblico ha risposto oggi, è stato veramente molto bello e li richiamiamo di nuovo martedì perché ci sarà ancora un'altra partita importante. Ma sì, guarda, noi ti dico la verità, se segnassimo davanti al portiere che ce la tirano addosso e vinciamo la partita per noi va bene lo stesso. Io credo che al di là dei bei gol l'importante è la prestazione che abbiamo fatto questa sera e comunque anche il secondo tempo che abbiamo fatto a Trieste perché secondo me abbiamo fatto un secondo tempo importante e ci ha dato secondo me la spinta, il pareggio lì proprio per vincere stasera perché comunque se non riuscivamo a recuperare la partita là oggi si metteva brutta quindi credo che siamo stati molto molto bravi. Il Benevento nel prossimo turno perderà il vantaggio? Bisognerà vincere? Cambierà qualcosa nella testa? Assolutamente no perché comunque oggi avevamo due risultati su tre e mi sembra che abbiamo vinto quindi il nostro obiettivo è entrare in campo e vincere la partita. È normale che due risultati un pochino possono aiutare ma conosciamo il mister e comunque ce lo trasmette anche a noi, non giochiamo per il pareggio quindi a prescindere da quello noi nelle due sfide cercheremo di portare a casa la vittoria. E l'importanza del pubblico perché stasera si è fatto a sentire e martedì si gioca in casa? Assolutamente, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, sono stato il dodicesimo uomo in campo e credo che questa, insomma, come posso dire, ci siamo riavvicinati con loro e per noi è molto importante perché oggi ci hanno dato veramente una grossa mano.